trasmettitore in gamma fm 88 108 megahertz in kit circuito stampato e componenti in questo momento stiamo generando una frequenza di 90.4 megahertz la stiamo misurando con l'analizzatore di spettro tramite questo attenuatore 25 db leggiamo 0 dbm e quindi avremo 25 dbm quasi un watt in uscita la selezione della frequenza di uscita la possiamo fare agendo sul compensatore per la regolazione grossa o sull'induttore per la selezione fine lo schema è classico affidiamo la modulazione fm a un diodo varicap abbiamo pre finale e finale colleghiamo un'antenna ground plane ed effettuiamo delle prove di trasmissione outdoor chi fosse interessato al kit può scrivermi all'indirizzo email che trovate in descrizione grazie a tutti